Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio assolutamente aggiornarvi con tantissime notizie importanti perché oggi arriverà tanta volatilità sui mercati abbiamo alle ore 14.30 i dati sull'inflazione negli Stati Uniti ne ho parlato già spesso nei video precedenti questo potrebbe essere un dato che detterà la situazione del mercato nei prossimi giorni, prossime settimane voglio parlarvi anche di tantissime notizie importanti per quanto riguarda soprattutto CRO perché sta per essere finalmente approvato il burn per quanto riguarda i 100 milioni di CRO bruciati ogni anno questo potrebbe portare il prezzo ovviamente a subire una crescita quindi iniziamo subito però prima di iniziare un mi piace basta un click il gioco è fatto soprattutto in bear market ragazzi che le visualizzazioni e i mi piace stanno calando quindi il supporto da parte vostra è fondamentale davvero basta un click e se non siete iscritti iscrivetevi al canale ora iniziamo davvero subito per quanto riguarda la situazione su CryptoBubbles vediamo che in questo momento questo registrando la situazione oggi potrebbe variare perché come ho detto prima è attesa tanta volatilità in questo momento il mercato diciamo vede una piccola salita per quanto riguarda alcune altcoins tante meme coin ragazzi purtroppo come ho già detto è davvero rischioso investire in queste meme coin in questo momento visto che la situazione del mercato è sempre la stessa i volumi sono bassi e spesso i prezzi sono manipolati da chi possiede soldi quindi attenzione per quanto riguarda il prezzo dei bitcoin siamo sempre nello stesso range finalmente dopo i dati sull'inflazione potremmo rompere verso l'alto oppure verso il basso per quanto riguarda croi invece lo stesso il prezzo è sempre diciamo su questo supporto leghi 006 e vi ho detto vi ho parlato spesso in questi ultimi giorni ultime settimane di questo crowburn da parte della cron's chain questo potrebbe essere molto molto positivo come ben vediamo da questo post qui tra una settimana il voto verrà chiuso e per chi volesse seguire un po' l'andamento del voto basta andare sulla pagina ufficiale twitter di cron's chain andare su questo post qui oppure i post passati e da questo link l'ultimo c'è possibilità di seguire l'andamento del voto dando un'occhiata qui al proposal vediamo i dettagli del proposal siamo nel voting period che è ancora attivo manca una settimana per chiudere diciamo il voting period e poi per attivare finalmente questo proposal e vediamo che ci sono stati 3.73 billion di voti la maggior parte dei voti sono stati positivi quindi del 91% bisogna superare il 50% ovviamente quindi possiamo dire che è fatta da questo punto di vista sapete come la penso per quanto riguarda il burn di crow abbiamo bisogno anche di vedere comunque i retails persone nuove che entrano nel progetto oppure i volumi che aumentano in generale in questo momento i volumi sono molto molto low vediamo che diciamo stanno calando per la maggior parte delle criptovalute questo fa diciamo pensare che i prezzi possano continuare a scendere però attenzione perché è strano dirlo però in questi momenti che nessuno è interessato più al mondo cripto a bitcoin, ethereum, le altcoins in questo momento ci sono le migliori occasioni ed è peccato che tante persone rientreranno quando i prezzi di nuovo saliranno perché il mercato è ciclico e di solito poi anche fra 5 anni per esempio i prezzi potrebbero avere una crescita maggiore rispetto a questa che stiamo vedendo ultimamente bitcoin purtroppo non è riuscito a rompere la soglia dei 31 mila soglia molto importante e siamo di nuovo quindi in questo range qui 27 mila 26 mila dollari importante da mantenere per continuare a salire ma una correzione verso 25 mila dollari potrebbe starci perché è un livello diciamo di resistenza che bitcoin ha tenuto per molto molto tempo come ben si vede qui sul grafico per quanto riguarda altre notizie importanti su twitter tante persone aspettano questi dati sull'inflazione per capire la fed dove è diretta per quanto riguarda i dati di interesse sono dati fondamentali lo dico spesso per capire l'andamento dell'economia statunitense che porta a ventate bullish oppure bearish sui mercati di discon come ad esempio il mercato azionario oppure quello cripto e quindi aspettiamo le ore due e mezza io come al solito tramite il mio gruppo telegram che qui in basso è un'escrizione ragazzi quello ufficiale anche il profilo instagram attenzione profili fake vi aggiorno sempre faccio sempre un riassunto perché seguo in diretta questi meeting adesso sono anche negli stati uniti quindi per me è davvero prestissimo di mattina non è un problema seguire queste cose vi aggiorno sempre in diretta su quello che succede sono notizie time sensitive quindi datevi un'occhiata ripeto il link è qui in basso in descrizione per quanto riguarda le altre notizie c'è paypal ragazzi che nel suo balance sheet ha dichiarato di avere un miliardo di dollari in bitcoin e altre cryptocurrencies quindi questo è davvero positivo perché paypal è un colosso quindi sapere questa notizia fa capire che i grandi player sanno cosa fanno sanno dove investire e questo potrebbe essere per noi retails un diciamo un campanello positivo per farci capire che realmente il potenziale c'è in tutto il settore cripto altra notizia importante ragazzi è che i due principali market makers delle criptovalute jane street group e jam crypto hanno deciso di lasciare per ora gli stati uniti uno di loro ha deciso diciamo di lasciare gli stati uniti per la situazione che si è creata con la SEC perché non c'è una regolamentazione ben precisa invece jane street vorrebbe ulteriormente lasciare gli stati uniti per raggiungere paesi più crypto friendly che sono meno che creano meno problemi per queste aziende che vogliono operare gli stati uniti sappiamo tutto quello che è successo ripeto con gansler la SEC le securities eccetera quindi per questa notizia molto importante però attenzione perché il mercato cripto già adesso è poco liquido questi market makers che lasciano gli stati uniti non è per niente positivo nel breve termine potrebbe scaturire diciamo questo un altro dump nei mercati non so vedremo che succede detto questo per quanto riguarda oggi l'altcoin season siamo sempre al numero 4 ragazzi numero molto molto basso l'ultima volta abbiamo raggiunto nel 2019 come ben si vede qui quindi tantissimo tempo fa abbiamo raggiunto questo questo numero e poi il prezzo le alza dopo tanti anni esploso quindi in base a questo grafico potrebbe essere questo un buon momento per accumulare in alcuni progetti io ho fatto degli accumuli già ho spiegato perché nei video non sono mai consigli finanziari però ci sono progetti che per il futuro potrebbero dare qualcosa e perché no perché non diciamo mettere una piccola parte del portafoglio in questi progetti per il lungo termine quindi ci sta fate le vostre ricerche come al solito per quanto riguarda invece il bitcoin fear and weed index siamo al numero 52 oggi siamo in zona neutrale e vediamo che succede con i dati sull'inflazione sui cpi numbers che usciranno alle ore due e mezza italiane vediamo che succede quindi io come al solito vi aggiorno sempre detto questo ragazzi notizia davvero bomba che vi ho condiviso tramite telegram anche instagram perché young platform per la prima volta ha aggiunto il report fiscale sappiamo tutti che in italia bisogna dichiarare le criptovalute oppure anche pagarci le tasse e tramite young platform si fa in automatico e questo permette di risparmiare tempo e soprattutto anche denaro vi lascio il link di young platform qui in basso perché avete anche 10 euro di bonus se depositate 50 euro tramite il mio link che possono essere prelevate sia 50 che 10 euro in pochissimi click quindi dategli assolutamente un'occhiata ho anche gli altri bonus in descrizione ragazzi bing x c'è una promo molto interessante con big get nei prossimi giorni da pubblico perché c'è possibilità di ricevere 55 dollari gratis tutti i link sono qui in basso in descrizione se vi registrate tramite il mio link mi supportate e sono molto molto contento detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo presto con la prossima avventura ciao a tutti buona giornata